Riso Blanc, il riso che ti premia sempre perché non scuoce più. Presente? Alla corte di sua maestà il re dei giochi, Lino Banfi, il venerdì c'è una gran festa. Pippo, alzati e... Gli ospiti sono il ricordo e se vuoi seguirle loro gesta su canale 5, devi stare. Giocheranno con Rellino a tutti i giochi della tv. Si ride, si scherza, che allegria! Paolo, tu ti ritieri molto fortunata di avere una figlia come Deborah? Dai, salta su, su canale 5, giocando e giochendo al gioco dei giochi, che bel dì il venerdì.